Allora, post allenamento, ben ritrovati, ciao a tutti, con Romeo Agresti, domanda direttissima che poi è larghissima per tutti i versi possibili, che abbiamo visto? Due ore di allenamento molto intenso, per la precisione 1 ora e 50, diverse situazioni, lavori per reparti, lavori collettivi, lavori fisici, perché i mille finali onestamente non me li aspettavo. Io non vorrei mai litigare col professor Collinè, perché comunque è uno che fino alla fine pretende, però dà anche, è molto empatico con gli stessi calciatori, e questo è importante, però devo dire che la sessione di oggi è stata molto intensa per iniziare a preparare la partita di lunedì, che sarà difficile a Verona. Eh, detto subito, la partita di lunedì, la partita di Verona, tra l'altro scontro tra capoliste, viene da dire con una battuta, e sarà già insomma molto indicativa quella gara. Uno perché è la prima in trasferta, due perché il Verona comunque si presenta come una delle squadre più in forma in questo momento. La Juve, lo sappiamo, ci arriva con due defezioni non banali, perché non ci saranno UEA, non ci saranno UEA e Turam, insomma, anche lì è da capire quale sarà effettivamente la scelta di Tiago Motta, ma un indizio oggi l'abbiamo avuto, soprattutto nell'esercizio finale per reparti. Il quartetto, che potrebbe essere quello, insomma, titolare, utilizziamo tutti i condizionali del caso, vede Savona basso a destra. Sei d'accordo con questa mia, tra virgolette, visione, comunque, lettura del... Beh, non era visione perché è quello che ha provato, quindi ora è caldo, abbiamo visto la stessa cosa. Sì, hai ragione, Cri ha provato Savona a destra, devo dire che ha buttato subito nella mischia Calulu, che non so come l'hai visto, che mi è sembrato fisicamente tosto, intenso, anche pronto, molto concentrato. Speriamo che questo ragazzo stia bene perché potrebbe essere un bel innesto. E poi sì, adesso c'è il grosso interrogativo, capire se è cambiato o giocherà alto a Verona, e se così fosse, poi a destra ci sono tre calciatori per una maglia, Savona, Danilo e appunto Calulu. Savona solido, 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 anche nell'allenamento di oggi, le cose giuste, nulla di trascendentale, nulla di incredibile, però sempre le letture giuste, sempre il momento giusto e questo è importante. E aggiungo anche, secondo me, molto importante il lavoro che sta facendo Tiago Motta su Cabal, più volte è andato lì vicino a spronarlo, proprio per dargli anche... Quel crossettino di Cabal. Si è rinnovato quell'asse che abbiamo visto già con... C'è il copyright su quell'azione. Praticamente, immaginatevi il gol annullato a Vlaovic contro il Como, replicato in allenamento. Quella palla di Cabal, colpo di testa a inserirsi di Vlaovic, questa volta nessuno l'ha annullato. Mi sembrava buona, la posizione era buona, ma forse anche quella là. Però non voglio aprire... Lasciamo perdere. Lasciamo perdere, lasciamo perdere. Hai citato Calulu, che secondo me era forse il grande tema della giornata di oggi, oltre alla curiosità che nutrivamo dopo il primo allenamento visto in Germania. Grande pulizia nel passaggio, giocatore che da quel punto di vista non va testato, va testato semmai dal punto di vista atletico e fisico. E comunque ha dato delle risposte incoraggianti, perché ha fatto quasi tutta la parte con il gruppo, soltanto l'ultima ha corso con Danilo e Gatti, ha fatto un esercizio atletico differente. Da quel punto di vista mi sembra un giocatore già pronto, quantomeno, per entrare nelle rotazioni. Domanda brutta, te la faccio. Gioca a Verona. Mi sorprenderebbe, ma non troppo considerando gli usi e i costumi di Tiago. È appena arrivato, è vero che con l'allenamento di oggi, domani, dopo domani, hai tre allenamenti veri, no? Però credo che qui, probabilmente per i meccanismi di Tiago, ci voglia anche più tempo per comprendere, non è facilissimo, passi da una struttura difensiva a un'altra, ci vuole un pochettino di pazienza. Però l'ho visto subito, come dicevo prima, Vispo, cioè elettrico, è uno che sa fare più cose. Attenzione, perché poi magari c'è la sorpresa di Tiago, dopo Bangula titolare, l'ingresso di Savona, non quello di Danilo, non possiamo dire a prescindere di no. L'hai citato, Danilo. Ma ti metto dentro anche McKennie, erano anche loro gli osservati speciali. Wessi 1000 li ha fatti bene, fino alla fine. Wessi, soprattutto nella partitella a campo ridotto, l'ho visto anche lui bene, ha preso due pali, penso. Tra l'altro, possiamo dare un aggiornamento, perché l'accordo è addirittura d'arrivo per il rinnovo, fino al 30 giugno 2026. D'altra parte, se non ci fossero stati segnali positivi, non l'avremmo reintegrato in rosa, immagino. Sai, anche per lui, se vogliamo, tra virgolette, un altro mondo, perché da un giocatore che era totalmente fuori progetto... Un déjà vu, perché è successo l'anno scorso. Sì, infatti mi viene da ridere, però questa volta è stata ancora più estrema, perché lui fino alla fine... È un Highlander. E quindi, comunque, a un certo punto, l'anno scorso, prende parte con la squadra in direzione States. Questa volta non c'era in Germania. Quindi si è salvato sul corner per l'ennesima volta, però anche lui... Tra l'altro, Tiago, due o tre volte, ha detto bravo, bravo Wessi, cioè... Sai, questi ragazzi, comunque, hanno vissuto un'estate un po' particolare. E vanno rimessi totalmente al centro, dal punto di vista mentale. Sì, sono d'accordissimo. L'abbiamo visto comunque un pochino in ritardo rispetto agli altri, ma proprio perché è una questione normale, perché è partito in ritardo rispetto agli altri. Quindi, da questo punto di vista... Non ha fatto un'amichevole, un minuto. Esatto, non ci aspettavamo proprio qualcosa di diverso. Il problema non può essere, non può non essere. Capitan Danilo, ti chiedo intanto come le viste. Essere o non essere? È questo il dilemma. È questo il dilemma. Però, oggettivamente, per me almeno, ha alternato cose molto buone a cose molto meno buone. Allora, in tutto il momento ci ammazza perché ha tirato la palla. Ha tirato una palla che è andata fuori dalla continuanza, ma in chiusura. C'è un bel intervento. Ovvio che se non dovesse giocare con il Verona, ma non ti dico il titolare, però se non dovesse fare i minuti, beh, inizierebbe a diventare una situazione non da monitorare in chiave mercato, perché non mi aspetto che ci possano essere sorprese per uno come Danilo così, però, no? Situazione da monitorare. Certo, certo. Non lo definiamo assolutamente un caso. Stiamo restando che oggi mi sembra che la soluzione più plausibile sia che giochi lui basso con l'Ellas. Sì, ci potrebbe stare assolutamente come soluzione. Un altro giocatore che non ha giocato titolare con il come è stato Douglas Duits. Come l'hai visto, lui ha un ritmo differente rispetto agli altri. Cioè, con una squadra che va a 2.000, lui va a 1.500. Sembra, è sottoscritto quando entra nell'Ido in spiaggia, no? E vede quel passo lì. Poi però io non ho quei piedi. No, certo. E no, quando tocca a sta palla la fa cantare. Ha fatto due o tre cose tecniche bellissime. Deve, secondo me, perfezionare un po' la condizione fisica in termini di autonomia. Termini, perché comunque Tiago chiede tanto anche dagli stessi suoi preparatori. E lui probabilmente deve entrare concretamente nell'ordine di idee che, a parte che l'atletismo in Premier, no, è quello. Ma per come gioca Tiago probabilmente deve fare anche lui un percorso. Però, tecnicamente, ho già fatto delle robe nella partitella al campo, quello un po' più largo. Quando tocca a sta palla, è proprio samba, samba, samba. Sì, esattamente. Tu stai ballando la samba? No, nemmeno io. Non lo so, non lo so. Ma imparerò sicuramente nei prossimi giorni. Ecco, samba do Brasil. Esattamente. E chiudiamo il giro dei singoli con una domanda su fagioli. Che abbiamo visto meglio. Meglio. Che abbiamo visto, insomma, in palla, anche dal punto di vista tecnico. Lui è indiscutibile, però è chiaro che doveva mettersi al pari di alcuni compagni. Intanto anche lui è un'opzione, secondo me, molto concreta per Verona. Beh, da Herzog e Naurac, l'allenamento di oggi fisicamente è un altro mondo. Lì era distrutto. Oggi quando hanno provato i mille è stato quello più performante del suo gruppetto. Quindi vuol dire che sta meglio. A me è piaciuto come è entrato con il Como. Anche in fase di interdizione si è fatto sentire. Noi abbiamo bisogno che chiunque giochi, e che sia dall'inizio, e che siano degli ingressi, e poi si possa premere sull'acceleratore davvero in maniera forte. Sì, forte. Senza risparmiarsi, assolutamente. Non si è risparmiato oggi Tiago Motta. Perché è al centro della squadra, sia in esercizio un po' più tecnico, sia in quello un po' più tattico. Anche nella parte di Pura Corsa era a seguire i suoi ragazzi. Poi parla tanto con i giocatori. Questo è il fondamentale che abbiamo riscontrato. E anche comunque la differenza, diciamo, non sostanziale, però sicuramente non leggera rispetto al passato. C'è un dialogo davvero costante con i suoi ragazzi. E sta costruendo questo gruppo anche su questo, cioè sul fatto di parlarsi, di essere chiari, e soprattutto di essere chiari nelle richieste rispetto a questi giocatori. È molto empatico, è molto empatico. Io credo che poi anche la componente anagrafica. Lui è molto vicino ai veterani ed è più vicino rispetto ad altri e a quelli anche più giovani. Quindi lì parla tanto, parla molto, stimola. E questo è importante e fa capire come sia un allenatore quasi filosofo, mi verrebbe da dire. Cerca di entrare in determinati aspetti. Ma a me piace come tutto lo staff lavori. Perché, per esempio, abbiamo visto che gli esercizi di reparto per quanto riguarda la difesa sono stati delegati ai due preparatori dei portieri. Perché? Perché hanno i piedi buoni. Cioè, riescono a fare i lanci a 70 metri, cosa che magari un vice allenatore nudo oppure crudo magari fa un po' più di fatica. Invece abbiamo visto come i due preparatori dei portieri non abbiano sbagliato un lancio. Da destra, sinistra, palla coperta, palla scoperta. Insomma, oggi sono due ore intense, due ore belle. Una bella masterclass a cui abbiamo avuto la fortuna di partecipare. e nulla, vi diamo appuntamento alla diretta di oggi. Ci sarà Romeo, ci sarà soprattutto Alessio Tacchinardi in live dalle 18. Ci vediamo nel pomeriggio. Ciao a tutti.